L'emergenza spazzatura in alcune zone di Teramo sembra non essere mai cessata. Situazioni di degrado, così come potete vedere alle mie spalle, si ripetono ormai da anni e sempre nelle stesse zone. Tra la spazzatura che non viene raccolta con la dovuta frequenza e il contributo prestato da alcuni cittadini piuttosto incivili, questo è lo spettacolo al quale i residenti di Villa Mosca e delle frazioni circostanti sono costretti ad assistere ogni giorno ormai da anni. Una zona questa presa così tanto di mira da chi continua a non rispettare il metodo della raccolta differenziata porta a porta che la Teramo Ambiente, società che si occupa della raccolta rifiuti, ha organizzato qualche anno fa un appostamento con tanto di videosorveglianza. Una strada questa utilizzata non solo dagli automobilisti ma anche dai cittadini che ogni giorno decidono di raggiungere il centro di Teramo a piedi. È veramente una cosa incivile perché non si può tollerare una cosa del genere, comunque ci troviamo in un centro cittadino, vedere delle cose così sinceramente non è tollerabile. A volte mi sono anche fermata perché poi è una cosa che mi parte da dentro, per cui dico se vedo qualcuno che lo fa io mi avvicino e certo cerco un attimino di... Però poi si vede che quando vedono qualcuno comunque sono un po' più attenti perché sono anche furbi, oltre che essere incivili. Quindi vedi delle cose allucinanti, vecchie, cose, situazioni, però non possiamo farci niente. Cioè potremmo veramente, aspetta a noi, siamo noi che dovremmo fare qualcosa, però si vede che non c'è la volontà. Nessuno viene a pulire e quindi la situazione rimane così. Nessuno viene a pulire.